ciao a tutti come va spero come sempre che stiate tutti bene weekend venerdì per cui non c'è motivo che non siate felici così qua fa freschino non proprio tantissimo sapete che io non sono tanto freddolosa proprio per niente niente ieri è successa una cosa secondo me che fa pensare fa preoccupare un certo punto ero qua sul divano e vedo lampeggiare la luce tipo buon contatto poi si riaccende normale 15 secondi dopo ancora e poi tolta ho detto boh ci sarà un contatto guardato tutto ho aperto la porta di casa perché come apri la porta di casa in corridoio automaticamente si accende la luce aperto la porta e il corridoio buio sono andata con la torcia del cellulare verso l'ascensore che cielo davanti l'ascensore non funziona un terrazzo ho visto lo stabile di là che anche loro erano fuori col cellulare per vedere cosa succedeva e c'era tutto come si dice insomma tutta la zona tutta al buio sono andata a letto perché senza a me funziona tutto 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 con la corrente anche wifi sono andata a letto erano neanche le 8 e poi mi sono svegliata perché il cellulare funziona perché non ho non è che lo ricarico il contratto pago tutti i mesi ma il computer no e però non potevo scaricarlo cellulare perché non avrei potuto ricaricarlo per la sveglia perché mi alza le 4 per andare a lavorare mi sveglio penso sia mattina erano le 10 e mezza di sera e ho visto che era tornato il segnale del wifi che la luce era tornata tutto a posto chiesto stamattina al lavoro e mi hanno detto sì che prendono a zone ieri per esempio questa può essere che oggi lo fanno in centro per risparmiare le energie prendono e tolgono un paio d'ora un'ora e mezza e così speriamo che si risolva tutto va e niente ho visto un video finché mettevo via la spesa prima della falsona che mia mia non è che mi ha innervosito mi ha proprio fatto il video dove minaccia come sempre minaccia lei dice è l'ultima volta che avverto l'ultima volta vi avverto vi avverto ma non è un avvertimento questo sono minacce belle e buone perché lei non vuole che si che si dicano cose su di lei lei vuole insabbiare tutto infossare tutto e allora diceva a denis basta basta se parli ancora se dite ancora bene lei ha sempre questa cosa in bocca se dite ancora non vi permetto allora tu non hai capito che non hai nessun potere di permettere o non permettere alle persone primo te lo devi proprio ficare e siccome nella testa a differenza di quella casa disastrosa e discarica che hai ce n'è di posto dentro la tua testa perché cervello non ce n'è te lo devi mettere in testa io non vi permetto io non ti do permesso voi non potete dire beh io non ti do il permesso voi non tu non fai proprio non dai niente permessi non abbiamo bisogno del tuo permesso per parlare moderatori fantasma moderatori sei tu che chiudi la bocca alla gente che non può neanche parlare falsa comunque diceva ce l'ha ancora col lavoro vorrei spiegarti un paio di cose allora il tuo sto facendo con le mani ma proprio anche coi piedi virgolette lavoro se si può che se non è un lavoro vabbè è pubblico tu metti la faccia cioè tu se ti metti in pubblico smaroni tutta la tua vita anche quante volte vai in bagno e tutto quanto affari tuoi per cui ti prendi sia la merda che e i finti commenti che ti mandi tu ti fai dai tuoi fake o da tua suocera o da tua mamma e quelli belli o dai 100 200 iscritti veri che hai e ok il lavoro di denis è un lavoro privato lui non ha minato il tuo lavoro lui da persona libera quale è come sei tu e come lo siamo tutti noi ha solo portato una sua verità adesso come avevo detto all'inizio e siccome io non sono te io non sto qua a sindacare e no ma lui dice la verità beh a parte che tu come apri bocca c'è a te escono solo bugie ce l'hai proprio nel sangue perché per esempio io il fattore rh a a positivo un'altra persona può avere lo 0 un'altra albi e tu hai proprio il fattore rh falsa tuo sangue rh falsa negativa per cui lui ha solo portato dei video che sia andato da feito che non si è perché giustamente lui non ha un canale non aveva la forza a avrà trovato in feiti qualcuna che ha più coraggio più forza più non lo so è andato è libero una persona è libera di andare dove vuole ok per cui il suo lavoro c'è lui non ha minato il tuo non è venuto dal tuo datore di lavoro gli ha detto va che questa come vorresti fare tu un'altra cosa la mamma di denis che poi hai detto il nome hai detto il numero di casa hai fatto vedere il profilo facebook guarda che noi non siamo tuo marito e ci vogliono due secondi per trovarla non ti vergogni non ti vergogni neanche un po la zarona non ti vergogni sempre con le tue minacce e poi dice a fate mafiosetta di qua e di là e marco ma le minacce che fai tu cosa sono ti voglio dire una cosa ripeto la mamma di denis è una persona normale tua mamma l'hai sbattuta su youtube che ultimamente non si voglia far vedere ma solo sentire a poca importanza perché l'hai sbattuta e risbattuta su youtube e vorrei anche ricordarti una cosa che denis ha fatto vedere va beh il balletto tu dici ridicolizzata ma ti ricordi la scena che faceva mi sembrava tipo circo lei era l'ammaestratore di non so cosa presentava il circo che faceva la scenetta con giuseppolo pensi che non la prendessero per il culo sia lei che lui ma non ti vergogni tu prova solo a chi ma poi è un eh quanti anni ha denis 30 più di 30 c'è cosa c'entra che chiami sua mamma non è un bambino dell'asilo che ha rubato gli animaletti di i dinosauri a tuo figlio allora chiami i genitori per vedere se c'è cosa c'entra un uomo di 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 adulto chiami sua mamma ma non ti fai schifo ma non ti sputi in un occhio da sola quando ti guardi allo specchio non ti sputi in faccia eh tu prova a chiamare la mamma di denis prova prova e poi penso che qualcuno gli farà avere tutti i video gli fa avere che bella personcina sei gli faccia vedere il piccolo guerriero che aspettavi lettera a me stessa coi pantaloni col lupo della Siberia dietro che ti guardava il culo te che aggiusti un tavolino che fai finta di evitare una vite con tutti i tagli che ti sei fatta sulle braccia i gemelli scottex uno scottex e uno rotolone regina super riassorbiti allora se chiami la mamma di denis per dirle che tipo di persona è suo figlio che penso che sua mamma lo sappia sai sua mamma non è come te che hai fatto crescere tua figlia da tua mamma penso che sua mamma sappia com'è suo figlio non devi dirglielo tu però se gli dici come suo figlio gli devi dire anche perché si è comportato con te in un certo modo a detta tua a detta tua perché sappiamo che sei falsa e gli facciamo vedere anche i video che facevi col peperoncino adesso denis lo chiami topolino all'epoca il giusto era giusto era carlos mi sembra se anche la perduta mente si vestiva come aspettava gli facciamo vedere alla mamma di denis i video dove tu piangevi a secco che dicevi che eri stalkerata dal giusto è giusto fargli capire tutta la situazione non è che puoi dirgli solo due parole che fanno comodo a te ma quando dici che poi sempre la stessa solfa che ormai non ti credono neanche neanche le blatte che hai per casa che tu dici di no le hanno viste tutti quelli che hanno visto il video hanno visto le le bestie che camminano sui muri di casa tua sozza lurida e e e che puoi dire sempre solo quello che vuoi tu ma ma don ciac castoro che dici sempre voi canali di scolo e poi errore 404 a parte ogni tanto quando si 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 sveglia da dal torpore dici sempre portate i vostri contenuti noi portiamo i nostri lui è un lavoro ma hai visto quante visualizzazioni hai tu e tua moglie hai visto sul video dei present birthday cioè vive a quarto giaro non sa leggere ambulanza gritta si deve mettere davanti l'ambulanza e fa scrivere alla moglie perché lui non sa neanche lui non ha fatto neanche la quinta elementare credetemi credetemi my present birthday e che poi con ma la casa di scarica tipo peggio che non ha sepolti in casa peggio e tu dici no non vi permetto non vi permetto il pavimento è pulito potete mangiarci sopra si coi capelli coi capelli che fanno da contorno coi capelli che fanno da decor prima o dopo che hai tolto i capelli da due settimane per terra tutto l'urido e tu vieni a dire a noi che le scatole sono pulitissime come ma allora hai tolto ste scatole da qualche cava nascosta dentro quell'appartamento le hai tolte ma adesso quanto devono stare la 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 ti sei messa col culo dal divano a letto dal letto al divano a mangiare ti sei vista le serie tv ti sei vista questo ti sei vista e le scatole la è tutta la merda tra in giro in giro ma hai tirato fuori le scatole fa sto cavolo di albero fa i villaggi di babbo natale fa la città degli elfi fai fai quello che devi fare ma non lasciare la merda in giro mai visto che casa hai no è verribile cioè impazzisco apro butto tutto oppure falò hai il cammino io farei un bel falò e tutto pulito che comunque la gente non ha detto che le gatte sono sporche hanno detto che tu sei sporca e le gatte poverine sono costrette a cavare in giro dove trovano un buco cavano non hanno non hanno detto che poverine le gatte sono sporche hanno detto che tu sei sporca zozza che è vero che non hai voglia di fare niente e fatta l'ità hai trovato la tua dolce metà uno che che col lavoro proprio c'è litigato voglia di lavorare saltami addosso fammi lavorare meno che posso questo è il vostro motto no 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 comunque la devi smettere tu non puoi chiamare chiamo tua mamma perché allora fanno bene le persone a dire chiamo tuo fratello facciamo arrivare a tuo fratello il video che tu dici a siamo a mio marito esploso perché ci hanno fatto delle cose cosa ti hanno fatto ti hanno detto che i gemelli scotex e rotolone no 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 non ci sono e allora vedi tu come sei quando ti pungono ti pungono tu porti le prove hai fatto vedere il saldo hai fatto vedere di qua hai fatto vedere di là con tutte ste persone che continuano questi gemelli riassorbiti che non esiste una cosa del genere che i gemelli si riassorbono cioè dove si riassorbono e dove sono avresti già portato le prove per zittire tutti ma non le porti perché non ci sono l'unica prova io vi giuro stavo seguendo proprio la live di fate la stavo proprio seguendo che io le live proprio non mi piacciono i video avevo una tisana in mano sapete che io vi dico le cose come sono quando fate ha detto ancora il meteorismo importante ha sputato la tisana sta scorreggione a me viene in mente lei su sto lettino il ginecologo davanti e questa che gli tira una bomba che gli apri i capelli a metà come il mose di venezia ha 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 Per dire meteorismo importante Per cui smettila di minacciare le persone Chiamo tua mamma, è un uomo di 30 e passa anni Chiamo tua mamma Cioè ma per dirgli cosa? Che lo mette in castigo Ma ti rendi conto che sei ridicolo? Ma ti rendi conto che la gente non vi caga neanche di striscio? A te fa invidia perché Fate ha raggiunto Non so, 20.000 Sai in quanti eravamo in live quella sera? Ma non è perché parlava di te È perché ormai voi avete rotto i... Li avete sfracassati Li avete, basta! Ma non vi accorgete che non avete più... Cioè, ho visto un video di... Un video Avrà fatto la live Che io le guardo tante volte Per capire La mente umana dove può arrivare Ho visto una live Del Don Chuck Castoro Cioè non... Io Allibita Cioè non aveva una persona in live Che gli diceva Che ne so Ehm... Come va o... Cioè tutti che lo... Tutti, tutti, tutti che lo perculavano E l'unica cosa che diceva lui Continuava come un disco rotto Che voleva parlare della vecchia Milano Cioè ma non sei neanche dove abiti tu E che provincia sei Ti hanno detto del disastro che è successo a Ischia E tu dici la campagna è Napoli Quale campagna? La campagna è sperduta Il deserto infinito che hai nel cervello Si dice campania E poi non è che la campania è Napoli È Napoli che è in campania Cioè poi quell'altra che dice sempre Ehm... Ignoranza As no limits Cosa vuol dire As no limits? Tu l'hai sentita da qualche parte E la ripeti Ma ti rendi conto che non vuol dire un cavo Un cavo Un cavo Quello Poi facciamo un minuto di silenzio L'avete visto? Che ferma la bocca Sembra veramente un coniglio troppo cresciuto Ahahahahah E poi fa il conto alla rovescia come facciamo un minuto di silenzio a partire da 3 2 1 adesso e cosa fa la suocera che poi non so secondo me quella quel video che ho visto io quella sera la secondo me per sbaglio la suocera è andata in camera e per sbaglio ha bevuto quello che aveva lui sul comodino perché sennò non si spiega cosa aveva cantava lo perculava gli ha detto che non ha mai aperto un libro che lui non sa la storia non sa neanche cosa sia che i libri gli avrebbe potuti vendere perché erano nuovi di zek praticamente gli ha dato del deficiente dell'ignorante proprio cioè gliene diceva di tuticolo e continuava a ridere lui parlava e continuava qual è l'argomento gli dicevano scegliete voi un argomento belle live belle sei proprio un uomo di compagnia un uomo di spessore specialmente a livello panza sei proprio un uomo di spessore e continuavano continuavano lui continuava vorrei parlare della vecchia milano e diceva la suocera mi devi istruire sulla vecchia milano ma cosa vuoi istruirti che perfino la suocera lo prendeva per il culo diceva prima ti devi informare e poi aprire la live per parlare non durante o dopo ma lui non capiva ogni tanto si alza va a prendere caffè va a fumarsi la sigaretta e come come fanno gli operai quando prendono la pausa lui già non fa un fico secco dalla mattina alla sera dal divano mangiare dormire scorreggiare eccetera e poi durante quello che lui chiama lavoro si prende anche le pause e il suo lavoro consiste solo nel fare quei video di merda perché ho visto prima no il video è perché non ci penso neanche a vedere provolino ma ho visto la miniatura bello bello e sogno erotico di tutte di tutte noi bello 465 visualizzazioni complimentoni as no limit as no limit e ambulanza scritta davanti ti devi mettere davanti l'ambulanza davanti solo per leggerla quando ti prende in piedi e poi mi dici come leggi ambulanza è così ecco che comunque anche la sono due tre volte che continuo anche col lavoro di denis e sappiamo e dice la parola metà e dice il nome del capo e dice guarda veramente se fai la cagata di chiamare la mamma di denis per me è proprio la puoi chiudere proprio il canale perché siete già arrivati alla frutta se fai sta cagata qua ti mangi anche il dessert te lo dico io te lo dico io non sbaglio mai perché ormai siete non sei più la chiara d'alessandro che era un tempo non lo sei più non lo sei più e secondo me non lo recupererai neanche forse c'è solo un modo per recuperarlo ma ma visto che sei lo tsunami io sono chiara d'alessandro voi siete qua io sono qua io sono la burattinaia vediamo come ti rialzi vediamo i video smr è arrivato il microfono doveva arrivare microfono rosa è arrivato nero non poteva più farli io l'avevo detto dall'inizio non li fa perché non può monetizzare lei mi ha scritto proprio lei chiara d'alessandro col suo canale mi ha scritto informati bene prima di parlare il canale già monetizzato si chiara la mia falsona ma il canale è monetizzato ma non puoi mettere le pubblicità non puoi fare quello che fai adesso la pubblicità può solo partire all'inizio e basta perché i video asmr certo non sono quelli che fai ticotico 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 con la mano dell'omino con la mano non sono certo quelli che fai tu comunque servono per rilassare 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 non puoi mettere pubblicità e non per cui il canale non guadagna cioè non guadagni come in un video normale e non li fa e come le bambole reborn lei all'inizio perché voleva copiare follettina faceva vola a tutti gli iscritti che aveva follettina che è partita anche lei con le bambole la passione per le bambole anche questa solo che lei solo che chiaro non ha comprato i fake comprato le bambole che farà spendendo anche la centinaia e centinaia di euro per i vestitini dove sono dove sono passeggino si è fatta portare tutto dov'è l'album di nozze chiara deve essere un ricordo per la vita l'album del matrimonio dove aspetteremo come il film si chiamerà l'ultimo treno per l'america quel vagone che trasportava le le piante di olivia scolane e la carrozza e come si chiamano le carrozze quelle che trasportano i materiali che trasportava le macchine che vanno in america l'ultimo treno per l'america film autoprodotto per cui smettila di fare le tue solite minacce che lei ormai sto disco rotto la legge farà il suo corso sì la chiavetta tutto aggregato aggiunto le chiavette loro hanno chiavette dappertutto come tutti gli scatoloni ma per fare un albero di natale c'è bisogno di 550 mila scatoloni ma dentro ci sono anche tutti i funghi e zucche che avevi comprato per arredare la casa per l'autunno con tutti quei foglie che avevi preso che tappetini da mettere sotto i piatti sotto piatti a foglia funghi dappertutto porcini chiodini champignon fatti il tuo albero di natale lascia in pace le mamme che non c'entrano niente vergognosa un uomo adulto chiamo tua mamma per minacciarlo perché sai benissimo che è una signora che non è neanche del tutto in salute perché giustamente ma anche se fossi in salute qualsiasi figlio dice chiama mia mamma cosa gli dice cosa capirà cosa e poi vedrai vedrai quanta vedrai se già se già adesso le visualizzazioni sono in discesa libera discesa uuuuuh vedrai comunque ha detto adesso basta era l'ultima live basta adesso basta l'ultima lo so che l'ha detto 1555 mila volte vediamo se questa è la volta buona vabbè io vi auguro un buon weekend buon sabato buona domenica divertitevi speriamo che già sia che non piova l'importante che non piove insomma che se qualcuno vuole girare fare un giro io la spesa l'ho fatta stasera però domani nello stesso giri da fare vabbè un bacio enorme buonanotte e alla prossima ciao ciao